Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera bentornati a Roma incontra lo sapete che la carenza di infrastrutture ogni anno ci costa 40 miliardi ci fa perdere 70 miliardi di export e ci costringe a ciascuno di noi a 38 ore di coda beh se non lo sapevate adesso lo sapete secondo una ricerca rispetto alla Germania l'Italia sconta un gap del 24% per la qualità delle strade del 40% per l'efficienza dei servizi ferroviari del 18% per quella dei servizi portuali e udite udite del 199% per la copertura della linea internet ultraveloce e fin qui stiamo parlando soltanto delle grandi infrastrutture materiali e immateriali poi ci sono gli interventi minori da fare indispensabili per la messa in sicurezza del territorio, delle città, dei piccoli comuni e dei cittadini stessi perché l'88% degli oltre 8 mila comuni italiani ha almeno un'area classificata ad alto rischio idrogeologico il 40% dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica è in zone ad alto rischio sismico su circa 6.000 opere censite, gallerie, ponti, viadotti, un terzo necessitano di interventi oggetti il 38% dell'acqua trasportata dal sistema idrico che è già pubblico ma qualche matto vuole statalizzare per sganciarla da ogni rendimento economico va perso per l'elevato deterioramento della rete ecco, in un paese così combinato dove l'altro giorno una marea di ragazzi più o meno consapevoli è scesa in piazza per chiedere un maggiore rispetto all'ambiente coloro che si definiscono ecologisti bloccano un'opera come l'alta velocità ferroviaria Torino-Lione che se fatta toglierebbe dalla strada camion e auto inquinanti per far viaggiare merci e persone su rotaia perché? Perché si dice che i costi sarebbero maggiori dei benefici ma siamo proprio sicuri? Roma Incontra vuole capirci di più e meglio su questo tema chiedendo l'UMI ad un professore che è della Commissione per l'analisi costi-benefici della TAV voluta dal Ministero delle Infrastrutture ha fatto parte ma non ha condiviso i risultati è docente di Ingegneria dei Trasporti all'Università Tor Vergata di Roma Pierluigi Coppola Benvenuto Buonasera Allora lei vanta una grande esperienza sia come docente ma anche come collaboratore per la Commissione Europea in Spagna e in Olanda per Roma al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha lavorato con gli altri esperti all'analisi costi-benefici intanto chi gliel'ha proposto, perché l'hanno scelta e perché lei ha accettato diciamo di far parte di questa Commissione? Dunque, innanzitutto una precisazione non è che esiste una Commissione esistono degli esperti della struttura tecnica di missione che vengono nominati con un decreto del Ministro sono 14 a 6 esperti è stato appunto affidato il compito di fare le analisi costi-benefici di varie grandi opere tra cui anche la Turingolione Quindi questi 14 sono permanentemente consigli? Vengono nominati ogni volta che c'è un cambio di Ministro Io facevo parte della struttura tecnica di missione dei 14 esperti già nella precedente amministrazione quindi ho già lavorato alla struttura tecnica con il Ministro di Rio Poi sono stati pescati 6 di questi 14? No, no, del 14 sono rimasto io e un collega della precedente Ma in questa, dei 14 di questa, 6 hanno 6 anni fa, si stanno occupando dell'analisi costi-benefici Ora perché hanno scelto, perché mi hanno riconfermato penso che la motivazione sia per il fatto che io nella precedente amministrazione mi sono occupato proprio di scrivere linee guida per l'analisi costi-benefici La metodologia da utilizzare per le valutazioni economiche degli investimenti Ci faccia capire, questi esperti come hanno lavorato? Ognuno faceva un pezzo e poi avete fatto un collage? Oppure c'era una collegialità di lavoro? C'erano degli incontri collegiali poi ognuno faceva i compiti a casa per intenderci però c'erano degli incontri collegiali in particolare, noi non è che abbiamo iniziato con la Torino-Lione abbiamo iniziato con il Terzo Valico dei Giovi che è un'altra grande opera Da genovese ne sento molto il bisogno Ecco, esatto Quindi abbiamo iniziato appunto con condividere una metodologia però i problemi sono sorti subito perché non ci siamo trovati appunto sul metodo da adottare in particolare ci sono state alcune questioni che nonostante appunto ci siano stati grandi scontri discussioni in commissione sui quali non si è trovato un accordo Faccia capire, il metodo che si adotta già incorpora in sé in una certa misura anche il risultato finale dell'analisi? No, in realtà no A secondo del metodo che si sceglie? Ecco, il metodo diciamo che deve seguire delle scelte di indirizzo strategico che non spettano i tecnici ma spettano la politica Allora queste scelte erano state fatte dalla commissione europea in primis che ha pubblicato nel 2014 un documento che si chiama linee guida per l'analisi costi-benefici e queste linee guida sono state poi recepite con decreto ministeriale nel 2017 anche in Italia e accolte con grande favore dalla comunità scientifica perché per la prima volta finalmente anche in Italia così come in altri paesi c'era un documento, un decreto ministeriale quindi una legge alla quale noi tecnici potevamo riferirci per individuare la metodologia con cui valutare le opere cioè non era più una scelta nostra il metodo ma era già definito Ma tra questi sei la divergenza è nata già sul metodo? Sì O sulle conseguenze poi una volta applicato il metodo? No, no, la divergenza è nata sul metodo La divergenza è nata sul metodo perché E qual era diciamo l'oggetto del contente? Beh, ormai la questione è andata Senza entrare in supertecnicismi Senza entrare appunto in supertecnicismi la questione principale era la ben nota questione delle accise e dei piedaggi Vale a dire che in particolare le accise che costituiscono dei trasferimenti fiscali dai cittadini, dalle imprese allo Stato sia le linee guida europee che quelle italiane dicono che non vanno computate nel calcolo costi benefici Per capirci le accise sulla benzina dice se tu passi dalla gomma alla rotaia quindi togli traffico di macchine e camio per farlo diventare traffico ferroviario C'è una perdita fiscale per lo Stato C'è una perdita fiscale perché lo Stato non incamera più le tasse appunto che i cittadini e gli autotrasportatori pagano sulla benzina E l'indirizzo europeo è di non considerare questo elemento No, ma la ragione è semplice Si tratta di un trasferimento, cioè di un passaggio di euro da un utente, dall'utente del sistema di trasporto allo Stato che è un altro soggetto della collettività Ora l'analisi costi benefici è un'analisi appunto prima finanziaria ma in questo caso stiamo parlando di analisi economica L'analisi economica tiene conto appunto non dei trasferimenti fiscali per cui è un qualcosa che va sicuramente scomputato dal calcolo e su questo tema non c'è stato appunto verso di trovare un accordo Era l'unico o il principale? Può essere il principale, però ce ne stavano anche altri, molti altri in particolare il valore del tempo che è stato utilizzato ma questo era quello principale perché condizionava fortemente a monte il risultato dell'analisi in particolare poiché le accise sono la tassazione su carburanti quindi le accise è una quota rilevante cioè scusi faccia capire rispetto il fatto di considerare le accise avrebbe appenalizzato tutte le opere infrastrutturali ferroviarie e d'altronde si è visto anche con il terzo valico dei Giovi dove sono stati presentati tutti e due i risultati dell'analisi con e senza accise e il risultato cambia significativamente nel caso della Torino-Lione le accise valgono 6 miliardi la variazione di accise valgono 6 miliardi quindi è una quantità che era in grado di rovesciare appunto il risultato dell'analisi non da solo, insieme ad altre componenti sulle quali pure c'è stato un disaccordo si è letto che c'è stata un'analisi anche fatta per Bruxelles erano due cose in parallelo, due cose diverse? no, 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 su questo è necessaria una precisazione il documento si è parlato appunto di una doppia analisi una per Bruxelles e una per il governo italiano in realtà non erano lo stesso tipo di analisi l'analisi per Bruxelles era un documento appunto di analisi di impatto sull'occupazione sull'ambiente e sullo sviluppo economico non della Torino-Lione ma di tutta la rete dei trasporti europei di cui la Torino-Lione è un pezzo però era soltanto una valutazione di impatto quindi per intenderci valutava solo i benefici della rete europea dei trasporti che è questo grande progetto che ha lanciato la Commissione e che dovrebbe essere completato nella sua prima parte nel 2030 invece l'analisi che è stata fatta per il governo italiano era un'analisi dei benefici ma anche dei costi cioè i benefici venivano confrontati con i costi la cosa però che un po' ha sorpreso è che i benefici che sono stati considerati nell'analisi dei costi-benefici quella italiana per intenderci erano diversi nel senso che appunto nel primo documento non si parlava proprio di impatto sulla fiscalità degli stati quindi le accise non c'erano non erano neanche nominate così come neanche i pedaggi per i concessionari autostradali senta ma faceva parte della valutazione o avrebbe potuto farne parte se non c'era una valutazione di tipo economico di che cosa significhi la perdita di credibilità di un paese che avendo già firmato dei trattati internazionali perché la Torino-Lione come ricordava è un pezzo di un progetto europeo molto più vasto sul quale noi avevamo preso degli impegni e ora è vero che i governi cambiano ma lo Stato è sempre quello italiano ecco le conseguenze dal punto di vista della credibilità dal punto di vista di cosa la comunità finanziaria internazionale può pensare di uno Stato che non addempia i suoi impegni e quindi magari decide di non investire più tutta questa filiera di ragionamento fa parte o non fa parte? non fa parte dell'analisi costi-benefici però è stata fatta un'analisi giuridica più che altro delle conseguenze che appunto non fare l'opera avrebbe comportato dal punto di vista appunto amministrativo però io ho letto prevalentemente perdiamo i finanziamenti europei dobbiamo spendere soldi la credibilità non è stata presa in considerazione in questa analisi però ecco devo dire che non è un un penso non possa considerarsi un qualcosa che debbano giudicare i tecnici è una valutazione più politica politica questo è vero ed è ipocrita diciamo scaricare sui tecnici poi le responsabilità delle decisioni quale che esse siano senta ma si ipotizza che ci possa essere un altro piano si è detto la mini-tav si è detto facciamo delle varianti rinegoziamo tutta questa roba qua è fuffa mediatica o verità? mezzo e mezzo diciamo che innanzitutto noi stiamo parlando di un progetto che è stato concepito all'inizio degli anni 2000 e che è già stato rivisto profondamente il progetto inizialmente prevedeva oltre alla sezione trasfrontaliera quindi il tunnel ecco perfetto il tunnel di cui si parla prevedeva altre opere anche abbastanza rilevanti sia sul lato francese che sul lato italiano parliamo del lato italiano il progetto originario in nero in questa foto è riportata la linea storica in blu ci sono il progetto originario come vedete ci sono due tunnel sul lato italiano il tunnel dell'orsiera cosiddetto il tunnel della collina morenica che erano appunto due grandi gallerie incluse nel progetto originario in seguito poi alla revisione la project review che è stata avviata nel 2012 e completata nel 2015 si è deciso dopo attente verifiche della capacità della linea storica che il tunnel dell'orsiera cioè quello che va da Susa ad Avigliano ad Avigliana per intenderci poteva essere posticipato visto che la tratta da 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 Mussoleno ad Avigliano la tratta storica aveva una capacità sufficiente per far passare il numero di treni previsti e si è mantenuto invece il tunnel della collina morenica quindi il secondo alto tunnel per mettere in linea lo scalo merci di Orbassano lo scalo merci di Orbassano è uno scalo importante che serve per favorire l'intermodalità della cioè cioè il trasferimento appunto dei delle merci da i tir ai treni e questo è uno scalo centrale per tutta la provincia di Torino quindi quel tunnel della collina morenica è stato mantenuto proprio per questo ci sono stati dei forzi scusi questi cambiamenti sono stati negoziati con l'Europa no questi non andavano negoziati con l'Europa perché questo era tratta italiano le dico di più che la Francia che ha dal lato suo anche l'ammodernamento della linea storica per costi che arrivano a 7,7 miliardi cioè quasi pari al costo dell'inter non l'ho ancora l'ha appena avviato questo processo di revisione di revisione del progetto originale quindi anche loro stanno facendo questo lavoro anche loro stanno con Macron iniziato questo percorso di revisione del progetto al momento al momento è tutto posticipato dopo il 2030 nel caso italiano invece questo progetto l'abbiamo anticipato questa project review l'abbiamo anticipata abbiamo risparmiato abbiamo deciso di posticipare il tunnel dell'orsiera risparmiando 2 miliardi e mezzo e invece mantenere il tunnel della collina morenica che costa 1 miliardo e 700 milioni c'è chi dice se possono fare ulteriori revisioni di questo genere ecco e questa è questa ipotesi che però è un po' fumosa nel senso che non è stata ancora diciamo formalizzata ufficialmente l'ipotesi minitava potrebbe essere quella appunto di posticipare anche il tunnel dell'orsiera quindi risparmiare questo miliardo scusate il tunnel della collina morenica risparmiando quest'altro miliardo e 700 milioni quindi posticipandolo dopo il 2030 però si perderebbe una grande opportunità che è quella di avere subito in linea lo scalo di Orbassano di uno scalo fondamentale come vi dicevo per tutta la provincia tutta la provincia di Torino e poi c'è un'altra piccola cosa che però è pure molto importante che è la stazione internazionale di Susa che è stata una stazione aggiunta durante la fase di revisione del progetto non era prevista inizialmente ed è stata aggiunta creando appunto che è una stazione importante perché crea accessibilità per tutta la Val di Susa anzi è quella stazione che poi hanno voluto i territori e che ha diciamo anche ridimensionato molto tutta la protesta il fronte no soprattutto locale questa stazione ha un costo limitato rispetto ai costi del progetto quindi sarebbe un peccato non farlo senta quando lei ha manifestato il suo disaccordo su come la commissione il gruppo di lavoro stava lavorando e poi immagino anche sulle conclusioni come sono andate le cose lei ha detto mi alzo e me ne vado come è stata la cosa quando si è capito che non si riusciva a trovare l'accordo anche con l'avallo della segreteria tecnica del ministro si è deciso appunto di andare avanti appunto in quella stazione senza di lei diciamo che io ho fatto comunque una nota una nota al ministro in cui ho rappresentato i motivi del mio disaccordo e ho spiegato appunto le questioni per cui i risultati non sarebbe stato più logico fare due relazioni al Parlamento una che sotteneva una tesi una che sotteneva però a quel punto forse non c'erano più i tempi tecnici per farlo mettiamola così ma senta e dopodiché che è successo che che lei adesso non collabora più come è stato immaginato no io faccio sempre parte della struttura tecnica missione sono sempre un esperto di alta consulenza però non mi occupo più di TAV mi occupo delle altre grandi infrastrutture ecco a proposito io ho citato prima qualche numero per dare un po' il segno del gap infrastrutturale che riguarda questo benedetto paese diciamo lei condivide che siamo troppo indietro e che dobbiamo fare ancora tante cose si non è una si condivido in linea ho sentito l'introduzione molto interessante e corretta soprattutto per quanto riguarda i servizi per quanto riguarda le infrastrutture noi abbiamo ancora un patrimonio enorme soprattutto di strade e di ferrovie c'è un tema di manutenzione che è stato avviato e il vero problema ecco mi permetto di aggiungere a quello è il fatto che noi non cresciamo cioè dalla nostra dotazione infrastrutturale ferma più o meno a quella che avevamo negli anni 2000 quindi in 15 anni non siamo cresciuti a differenza di altri paesi europei che in questi anni hanno e posso aggiungere quella degli anni 2000 era poco più grande di quella degli anni 60 e 70 cioè non è che ecco il grosso il grosso però ecco negli ultimi 15 anni la Spagna per esempio ha raddoppiato la la sua rete infrastrutturale in particolare quella della proprio quella dell'alta velocità ormai la Spagna è il primo paese in Europa realizzato appunto negli ultimi 20 anni il primo paese in Europa per ha superato anche la Francia per linee di alta linee ferroviarie dedicate solo all'alta velocità dopo la vicenda del ponte di Genova si è detto si è fatto un po' un ragionamento dicendo ma insomma il grosso delle nostre infrastrutture è datato nel dopoguerra e c'è una come dire una durata fisiologica inevitabile e quindi probabilmente verranno vengono stanno venendo verranno tra poco a scadenza diciamo come se fossero yogurt tutte le infrastrutture che sono nate in quegli anni e che specialmente se non hanno avuto dei supporti di manutenzione importanti sono diventate troppo vecchie è un'analisi corretta questo? è corretta però è noto il problema sia noto si faccia qualcosa però che sono stati la gran parte anche dei contratti di programma che il ministero stipula con ANAS e con le ferrovie ha una quota molto significativa quasi il 50% degli investimenti per la manutenzione per la manutenzione questo già prima quanto incide la diffidenza diciamo questi gruppi di pressione sul no a questo a quello non nel mio giardino che è la classica frase che si dice per qualunque infrastruttura anche energetica incide parecchio perché ritarda molto e tra l'altro proprio per non nel mio giardino lei si riferisce alla sindrome NIMBI quindi l'opposizione delle comunità cioè fatelo pure però non qua fatelo un po' più un lazo proprio per questo è importante avviare da subito quel processo che poi si è fatto per la Torino-Lione ex post vale a dire condividere i progetti con i territori locali così come si fa in Francia tra l'altro noi abbiamo una legge Francia c'è la legge del dibattito pubblico noi abbiamo anche la legge del dibattito si chiama proprio dibattito pubblico è un decreto copiato dalla Francia non proprio copiata perché l'abbiamo anticipata abbiamo fatto meglio secondo me perché l'abbiamo anticipata la progettazione di fattibilità e perché non si usa? non si usa perché è una legge ancora recente c'è bisogno bisogna farla diventare vecchia bisogna farla bisogna implementarla ecco no anche perché immagino che i materiali e le tecnologie con cui sono stati fatti le infrastrutture degli anni del boom economico siano comunque oggettivamente vecchi insomma inevitabilmente vecchi insomma sì anche perché parliamo di materiali che si deteriorano che hanno bisogno appunto di di una manutenzione in alcuni casi gli viadotti l'hanno ricostruiti senta in conclusione perché abbiamo finito il nostro tempo io so che lei è amante dei romanzi gialli giusto? sì se la TAV fosse un romanzo la storia della TAV fosse un romanzo giallo chi è l'assassino? beh io penso che sia uno di quei di quei romanzi in cui l'assassino già si sa dalla prima pagina si è parlato di assassino quindi non c'è gusto di arrivare in fondo perché sappiamo già no ma secondo me risusciterà il morto ah beh allora siamo stiamo tranquilli grazie al professor Pierluigi Coppola e complimenti per il suo lavoro diamo una mano al picco la pubblicità state con noi a tra poco per la seconda parte bentornati a Roma incontra è professore di diritto del lavoro avvocato è stato parlamentare si è cimentato però anche come scrittore in un libro in un romanzo scritto per Giunti che si chiama La casa nella pineta storia di una famiglia borghese del novecento è Pietro Ichino ciao benvenuto allora è un romanzo sì però non ti sei fatto mancare i temi del lavoro la società i temi sociali non so se è un romanzo diciamo che è la storia non è un saggio però neanche non è un saggio no è la storia di un mezzo secolo con qualche radice negli anni precedenti vista attraverso la storia di una famiglia che è la tua sei tu è autobiografico questo libro è una famiglia che ha una radice ebrea Ponte Corvo e che ha poi avuto una sua prosecuzione non ebrea ma molto legata alle sue radici ebraiche e che non ebrea perché la mia nonna materna Paola Ponte Corvo negli anni 20 si convertì al cristianesimo con una coloritura fortemente impegnata sul piano sociale i Ponte Corvo erano socialisti e comunisti e trasmise a mia madre questo impegno con questa sua fede cristiana molto particolare di lì poi è nato il rapporto fra noi e Don Milani tu racconti di averlo conosciuto a 13 anni no no molto prima prima perché lui mia madre l'aveva conosciuto perché lui era fidanzato di sua cugina Carla Sborgi prima della guerra poi lui piantò la fidanzata e andò in seminario e non si videro più ma a metà degli anni 50 la zia Carla la ex fidanzata mandò a mia madre il libro esperienze pastorali mia madre e mio padre lo lessero e ne rimasero entusiasti ne comprarono 250 copie e da lì rinacque il rapporto con lui e lui era stato appena esiliato a Barbiana per punizione e ai miei genitori che gli chiedevano cosa possiamo fare per sostenere la tua iniziativa lui disse beh vengo in visita a Milano con i miei ragazzi e quindi arrivò con i suoi primi sei allievi per i quali stendemmo i materassi per terra e per ospitarli e io veni staccato da scuola e partecipai a questa settimana milanese della scuola di Barbiana e da quel momento poi restai legatissimo sia ai ragazzi di cui diventai molto amico sia soprattutto a Don Lorenzo senti Pietro dimmi una cosa quanto quanto sei nostalgico ripensando questi ricordi te lo chiedo perché siccome in questo momento sono affetto da nostalgite acuta e quindi volevo capire io allora se guardi l'Italia di allora che è cominciato a conoscere da ragazzo e guardi l'Italia di oggi che che era a temperio di una famiglia borghese questo dice il sottotitolo del libro però attentissima ai segni dei tempi e attenta non per difendersene ma per assecondare il progresso quindi era un'Italia piena di fermenti piena di potenzialità un'Italia in cui c'era una direzione in cui ci si muoveva che poi ha avuto qualche problema di bussola col 68 e 69 però anche dopo il 68 e 69 aveva una direzione in cui muoveva io cercavo forse perché c'era una classe dirigente nel libro di raccontare proprio come ho vissuto io per via di Don Milani non andai a lavorare in studio da mio padre e andai a lavorare alla FIOM sindacalista di zona e lavorai dieci anni per questo che ti considero un traditore al sindacato sì appunto e ho sperimentato una CGL straordinariamente aperta in cui io in quei dieci anni non mi sono mai sentito fuori casa anche se era un corpo estraneo era quella dove per esempio Giuliano Amatto era capo dell'ufficio studi sì a Milano c'era Lucio De Carlini a Roma c'era Luciano Lama era un una CGL in cui si discuteva molto in cui poteva nascere ma non dall'oggi al domani perché il leader aveva deciso così ma perché c'era tutto un lavoro di elaborazione che partiva dal basso per esempio la svolta dell'euro in cui io vedo le radici della crisi della sinistra di oggi e cerco di spiegare nel libro in che cosa le vedo come le ho viste ancora di più nella mia esperienza prima esperienza parlamentare tra il 79 e l'83 quando la CGL milanese mi mandò 29enne alla Camera e dove invece entrai nella realtà del Partito Comunista e lì ancora di più ho percepito la crepa interna della sinistra per esempio Gerardo Chiaromonte Giorgio Napolitano Chiaromonte era responsabile della sezione lavoro quindi io lavoravo proprio direttamente alle sue dipendenze Giorgio Napolitano dalla metà della legislatura divenne capogruppo alla Camera quindi io ero anche molto in stretto rapporto con lui e troppo spesso mi sentivo dire da loro tu hai ragione hai ragione sul monopoio del colloquimento ma tu dillo fai bene a dirlo ma io non lo posso dire e io dicevo ma se non lo dici tu che sei al vertice del partito che sei il responsabile nel senso del lavoro chi dovrebbe dirlo secondo te in questo c'è si ritrova poi nel passaggio dopo la caduta del muro di Berlino la disillusione diciamo del comunismo internazionale eccetera che quello che io conti mai fatti fino in fondo con la storia diciamo soprattutto questo partito comunista e la componente maggioritaria del movimento sindacale allora era decisamente maggioritaria oggi non lo è più così nettamente ma la CGL era venivano da una cultura che teorizzava l'antagonismo tra lavoro e impresa l'imprenditore non era visto come una figura socialmente positiva l'idea era anzi che fosse una figura socialmente pericolosa e una figura di cui si potesse fare a meno questa idea non è morta è strano a dirlo ma insomma quando la FIOM CGL rifiuta il piano proposto da Marchionne a Pomigliano d'Arco e a Mirafiori e invita i lavoratori a votare no alla domanda ma se passasse disgraziatamente il no voi cosa proporreste la risposta è ovviamente la nazionalizzazione cioè se Marchionne se ne va con i suoi miliardi che cosa ne fai di questa nazionalizzazione ora nazionalizzazione vuol dire far senza l'imprenditore perché lo Stato non sa né fare né vendere automobili né progettarli quindi vuol dire negare che l'imprenditore abbia un ruolo pensare che l'imprenditoria nasca quasi maieuticamente dal collettivo dei lavoratori non è così non c'è lavoro soprattutto non c'è buon lavoro senza buon imprenditore ma il buon imprenditore è indispensabile ora che poi ci sia un conflitto di interessi è ovvio ma il conflitto di interessi è sulla spartizione dei frutti a scommessa comune una malfa diceva chi spena il pollo appunto cioè prima bisogna fare una scommessa insieme e le scommesse nelle scommesse si deve rischiare qualcosa di proprio senti ma la CGL di Landini di oggi che CGL dunque lì è un discorso complesso perché complessa è la figura di Landini Landini ha tanti difetti però diciamo ha anche un'anima un'anima che si è un po' ottusa un po' persa nel momento in cui lui ha pensato di fondare un movimento di estrema sinistra di sinistra sinistra poi ci ha ripensato però soprattutto si è reso conto che non aveva non c'era il seguito non segue ci ha provato non ha avuto e allora ha capito che era meglio tornare a fare però ti ho fatto questa domanda perché abbiamo avuto ospite un paio di settimane fa il suo antagonista al congresso Vincenzo Colla e devo dire che effettivamente c'è un linguaggio molto diverso Diversissimo Colla è un riformista Io ho attifatto fortemente per Vincenzo Colla Colla avrebbe avrebbe voluto dire la riscoperta delle radici della CGL di Lama e di De Carlini e di Amato però conoscendo abbastanza da vicino Maurizio Landini penso che possa anche riservarci qualche sorpresa la storia della CGL è una storia in cui spesso è accaduto che è arrivato al vertice un sindacalista sindacalista con radici moderate e che però al dunque si è sentito in dovere di diventare più CGL della CGL e con Landini potrebbe accadere l'inverso almeno io spero che questo accada senti ma come lo vedresti un sindacato riformista con dentro Bentivogli che viene dalla CISL e con Colla che sta nella CGL beh sarebbe un bel sindacato sarebbe un sindacato che soprattutto con Bentivogli perché è lui che incarna a questo concetto ma anche con Vincenzo Colla che ne è convintissimo assumerebbe come propria funzione proprio mestiere non quello di far la guerra all'imprenditore in quanto tale ma quello di essere intelligenza collettiva dei lavoratori capace di valutare i piani industriali scegliere l'imprenditore che dà affidabilità per saperli condurre a risultato che non è detto che siano tutti ma non è che non è detto appunto ma non può essere ideologicamente contrario se il piano è buono e se l'imprenditore è affidabile anche sul piano dell'etica industriale si deve contrattare a 360 gradi anche investendo del proprio cioè anche mettendoci mettendo a rischio qualcosa di proprio per esempio una parte della retribuzione che il cui zoccolo fisso può essere un po' più basso ma con la prospettiva che se gli obiettivi si raggiungono sarà più alta di quanto non si fa ecco questa idea di sindacato come intelligenza collettiva dei lavoratori capace io dico di ingaggiare l'imprenditore perché nel mondo nell'economia globalizzata c'è anche la concorrenza tra gli imprenditori prima non era così noi oggi abbiamo l'opportunità di tirare in casa nostra il meglio dell'imprenditoria mondiale invece noi abbiamo sofferto gravemente di un sindacato che tendeva a diffidare della multinazionale in quanto tale perché con dei nemico di classe e dei governi che tendevano a difendere l'italianità delle imprese è come un valore positivo peraltro difendendole male spesso l'italianità ci sono settori in cui gli italiani sono all'avanguardia sono leader sul piano tecnico industriale ma altri settori no e dove per esempio nel settore aereo la cordata famosa dei capitani coraggiosi non aveva mai fatto volare un aereo eppure l'abbiamo preferita al primo vettore mondiale quale era Air France KPLM e l'hanno preferita sia hanno preferito la cordata sia il governo Berlusconi sia i sindacati perché anche i CGL e le Cisleguilla avevano chiuso la porta in faccia difendeva di più i posti di lavoro senti abbiamo più poco tempo una battuta tu sei uscito dal PD per andare in scelta civica poi scelta civica non c'è più sei ritornato nel PD sei andato a votare alle primarie cosa pensi del PD di Zingaretti allora io sono rientrato io sono uscito da un PD che aveva assunto nel dicembre 2012 una coloritura pericolosamente anti-europea perché Stefano Fassina teorizzava che l'Europa era il nostro problema e che bisognava il più possibile svincolarsi da questi e adesso ho partecipato all'esperienza di scelta civica che credo sia stata molto utile al paese anche se è stata effimera dal punto di vista politico oggi credo che innanzitutto il PD sia indispensabile perché a me ho molta simpatia per l'esperimento di più Europa di Emma Bonino e Benedetto della Vedova ma non credo che abbia le spalle sufficienti per costituire ricreare un'alternativa l'alternativa al populismo e al sovranismo il PD invece questa possibilità ce l'ha e ce l'ha molto più di qua ma sei sicuro che Zingaretti poi alla fine non sia preso dalla tentazione di fare un accordo con i Cinque Stelle? No questo non lo credo io ho parlato a fondo di questo non lo credo proprio Zingaretti dice una cosa giusta dice noi dobbiamo recuperare molti voti ma tu alle primarie hai votato lui? No non ho votato Zingaretti e l'ho anche spiegato sul mio sito ho spiegato che ritenevo importante che la componente genuinamente e originariamente liberal-democratica avesse una sua rappresentanza consistente nella direzione e nell'assemblea nazionale del partito ma ho detto anche che dei tre candidati obiettivamente Zingaretti mi sembrava il più adatto dal punto di vista del carattere della persona e della storia per incarnare questa riscossa dell'opposizione al sovranismo senti queste ore ricorrono il 19 marzo i 17 anni dalla barbaro uccisione di Biagi tu sei stato diciamo fortemente nel mirino del cosiddetto antagonismo oggi vivi ancora con la scorta credo ancora sì esattamente dal giorno dopo dell'assassinio di Biagi il 20 marzo del 2002 diciamo che questo è un caso il suo in cui la scorta non è una come dire un orpello uno status symbol ecco è qualcosa di purtroppo di necessario un capitolo del libro intitolato il passamontagna sì io ho vissuto tre anni terribili che sono stati gli anni in cui era stato appena ucciso Massimo D'Antona con tutta probabilità per una indicazione proveniente dall'ambiente di certe frange sindacali con cui lui era in rotta di collisione nella sua funzione che gli era stata attribuita dal ministro dei trasporti all'ENAV l'ente l'ente degli uomini radar per mettere ordine e il giorno dopo Dersani il ministro dei trasporti mi chiese di sostituire Massimo D'Antona in quei tre anni e poi ancora per un po' dopo gli assassini erano ancora in giro senti ma è stato sconfitto quell'antagonismo chiamiamolo sì quello è stato sconfitto definitivamente credo proprio di sì tocchiamo ferro ma credo proprio di sì e vedendo come lavora la Digos questi anni io sono stato per questo motivo in stretto contatto con gli analisti per un verso e con gli addetti all'aspetto investigativo all'intelligence per un altro verso mi sono reso conto che la polizia italiana su questo terreno è che è probabilmente diventata attraverso un percorso che è cominciato con Dalla Chiesa ma sicuramente è oggi la migliore del mondo una giustizia più ago e filo che giustizia della bilancia e della spada però se non c'era la Digos con la sua capacità di intelligence e di controllo imbarba tutte le norme sulla privacy bisogna dirlo credo che la giustizia ago e filo non ce l'avrebbe fatta da sola leggete la casa della pineta Pietro Ichino grazie di essere stato con noi diamo una mano al picco la pubblicità tra poco per la terza parte di Roma incontra bentornati a Roma incontra scrittore drammaturgo conduttore su radio 24 di una trasmissione che si chiama Si può fare ha scritto spettacoli per Paolo Rossi Sabina Guzzanti Beppe Battiston ha scritto le prime 5 serie di Camera Caffè di Crozza Italia e ha scritto un libro dedicato a Winston Churchill Churchill il vizio della democrazia per Rizzoli e Carlo Giuseppe Gabardini benvenuto buonasera buonasera a tutti allora perché parlare oggi di Churchill è un'ottima domanda è la prima domanda che mi faccio nel libro proprio il libro inizia così perché in realtà in una riunione con Beppe Battiston l'attore che probabilmente conoscete e la regista mi chiedono di scrivere uno spettacolo su Churchill io gli dico aspettate un attimo che vado a studiarlo meglio cioè so chi è Churchill però prima di scriverci uno spettacolo preferisco approfondire e a quel punto inizio a studiare Churchill e mi innamoro totalmente di Churchill il libro è anche lo scrivere questo spettacolo e quindi chiedermi ma perché Churchill oggi nel 2019 che cosa ci può insegnare che cosa ci può ancora dire in realtà due cose secondo me precisissime nelle migliaia innanzitutto io quando devo scrivere di un personaggio che è realmente esistito parto dai difetti cioè parto da capire se c'è qualcosa di indifendibile finché ne vuoi esatto dal bicchiere di whisky al sigaro sempre in bocca esattamente si dice che abbia bevuto 42 mila bottiglie di champagne nella sua vita poi possiamo parlare dei Dardanelli la battaglia di Gallipoli 43 mila morti possiamo parlare delle bombe di Dresda quindi al di là di co dei vizi però ci sono due cose che proprio mi illuminano una che credo che ci dicano troppo poco che noi stessi ci ricordiamo troppo poco ovvero che l'Europa unita nasce soprattutto e sostanzialmente con un'idea di pace con un progetto di pace cioè per evitare la terza guerra mondiale e io credo che se noi ci ricordassimo più spesso che questo è il vero motivo saremmo anche un po' più indulgenti e comprensivi con quello che succede a Bruxelles cioè fermo restando che succedono un sacco di cose che non vanno bene però se capiamo che è quella la motivazione poi su tutto il resto infatti c'è un certo punto nel libro dove io trovo il numero di telefono di Churchill e lo chiamo e gli dico ma abbiamo fatto l'Europa unita e lui è felicissimo come un bambino proprio dice ma che bene perché lui ha lottato tantissimo perché tu racconti l'attualità di oggi al Churchill esatto esatto sì è su diversi piani perché da un altro ti hai detto anche della Brexit esattamente alla fine della telefonata gli dico Brexit e in quel momento cade la linea però mi sembra più interessante il momento precedente quando in realtà lui mi dice è così felice dell'Europa unita che io mi sento in dovere di dirgli beh guarda che non è che sta proprio andando benissimo questa Europa unita ci sono un po' di problemini e lui dice c'è la terza guerra mondiale e lui mi chiede ci sono morti in trincea o nei campi di sterminio io gli dico no e lui dice allora dov'è il problema tutto il resto si risolverà tutto il resto è politica anzi si occupi anche lei di far sì che quest'unione migliori e questo mi sembra un po' il punto il fatto che comunque l'unione sia imprescindibile per un uomo come Churchill che nel 1930 parla di Stati Uniti d'Europa quindi il primo di tutti e l'altro punto che proprio mi illumina e dico è oggi il momento in cui dobbiamo parlare di Churchill dobbiamo tornare a parlare di Churchill è la politica lui è proprio la politica e con la P maiuscola esattamente esattamente e non so come dire è veramente il personaggio che spiega molto chiaramente che è una follia svilire la politica cioè la politica non è né buona né cattiva è indispensabile se per qualunque processo democratico a meno che voi diciamo non siate appassionati di monarchia o di dittatura dove c'è solo uno che decide a parte che anche lì la politica in realtà ce n'è come per qualunque processo democratico serve la politica e serve che i migliori entrino in politica infatti l'esergo di questo libro è una famosa frase di Piersanti Mattarella che dice non prendetevela con i disonesti e quelli che rubano fra i politici dovete prendervela con quelli bravi e onesti che non si occupano di politica che se ne lavano le mani e che fanno sì che in realtà poi comandino i disonesti quindi è quello il punto senti poi ci ride anche nel libro perché così questo era l'inizio serio perché sono qua dico anche che sono felicissimo di essere qui a Roma in Contra posso dire questa cosa? no veramente sono veramente molto contento perché mi sembra una cosa e in più se posso aggiungere una stupidata la dedica di questo libro è a Moreno ed è diada in su per contra fra Moreno quindi a Roma in contra era perfetto tra l'altro anche scritto sbagliato perché qualcuno mi ha detto che non è vero non si dice come lo dico io ma io ho fatto la scuola tedesca e l'ho studiato così no è così si dice diada ah no pensavo in contra no in contra non mi permetterei di venire qua a casa sua senti ma questa roba qua immagino che tu abbia visto il film che io adoro l'ora più buia ho visto tanti di quei film su Churchill questo ultimo secondo me è veramente straordinario il libro l'hai scritto prima o dopo del film? dopo dopo quindi hai tenuto con conto del film ho tenuto conto cosa ti ha ispirato quel film? una cosa per me l'attore era fantastico beh Gary Oldman è incredibile in quel film la scena senza dire niente non so se Battiston si è sentito un attimo frustrato infatti posso dire una stupidata il sogno mio è in realtà tradurlo visto che da questo libro è stato tratto lo spettacolo con Battiston e di farlo interpretare in Inghilterra da Gary Oldman però temo che tradurre in Inghilterra un libro su Churchill è un po' difficile perché è un po' come se arriva qua uno svizzero a parlare di Garibaldi insomma non è molto però la vera cosa che ho capito molto con il film cioè io avevo questa sensazione studiando Churchill la gestazione di questo libro è stata di nove mesi e in questi nove mesi la cosa che mi sembrava più precisa di Churchill è quanto lui fosse un fanciullo cioè fosse legato al suo essere bambino e questo lui ce l'ha da sempre a parte che lui rischia la vita fin da giovanissimo va in coma a 15 anni poi cade la cavallo cade giocando a polo quando va sulla Fifth Avenue lo tira sotto una macchina e quindi c'è quella famosa foto con lui con la gamba rotta insomma rischia la vita sempre e questo molto come un bambino perché lui punta sempre tutto cioè mette tutto sul tavolo mette tutta anche la sua vita sul tavolo ecco il momento in cui lui dice di no a Hitler cioè alla pace di Hitler perché poi è il vero punto dell'ora più buia del film io penso che dopo aver detto che gli italiani non sono affidabili perché quel Mussolini lì è uno che è un qua 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 perché dice questo diciamo sì anche su quello ci sono tutte le cose perché in realtà lui disse che Mussolini era un grandissimo statista è vero questo poi c'è tutta la storia del carteggio che invece da quello che ho studiato io pare che sia alla fine dice che è un qua 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 esatto esatto però in quel momento io credo dove chiunque avrebbe consigliato all'Inghilterra di siglare una pace con Hitler cioè penso anche noi gliel'avremmo consigliato perché era veramente impensabile solamente uno che è puro come un bambino può dire no io dico di no perché mi stai sulle scatole perché hai ammazzato i nostri cugini europei in qualche modo e quindi in quel senso e nel film è più chiaro anche io finché lo studiamo ma nel film è proprio chiarissima questa cosa e tra l'altro quello è il vero momento in cui in qualche modo l'Europa era stata unita purtroppo da Hitler però nel senso che oggi saremmo tutti con la svastica in reazione esattamente e di nuovo quindi vedere anche quanto fosse forte un'Europa unita cioè quel momento lì è il motivo poi per cui noi diciamo che Churchill è il salvatore dell'umanità se vogliamo senti ma quanto ha inciso nel tuo innamoramento di Churchill il fatto che sia uno con due palle così è difficile poi lo chiede un uomo sessuale quindi sembra una domanda sembra una domanda veramente metaforicamente parlando metaforicamente parlando ebbè è un uomo di cui innamorarsi assolutamente quanto ha inciso ha inciso tanto perché lui è siccome in giro c'è un sacco di senza palle esatto sì allora al di là delle palle secondo me è il fatto che lui è un maestro è un maestro anche che sbaglia ci mancherebbe altro cioè questo libro non è una geografia ripeto non è Churchill ha fatto un sacco di errori ma è proprio il motivo per cui io mi innamoro di lui da un certo punto di vista perché parlare di un santo di un eroe inarrivabile è inarrivabile dico sì molto bravo però è lui lui è uno che si sporca le mani che si rimbocca le mani che è uno è uno che dopo la seconda guerra mondiale dopo che lui ha battuto Hitler perde le elezioni ed è stupendo quando glielo vanno a dire e lui dice vabbè d'altronde è per questo che abbiamo combattuto cioè per dare la possibilità a tutti di votare chi vogliono non è che bisogna di nuovo votare Churchill e poi la questione dell'Europa che secondo me è veramente centrale il sottotitolo del libro è l'Europa ha un cuore di leone ora dobbiamo trovargli il ruggito e questa è una parafrasi in realtà di una famosa frase di Churchill che disse la Gran Bretagna ha un cuore di leone io ebbi solo la fortuna di trovarle di darle il ruggito in qualche modo e anche questo quanto spiega dell'essere politici cioè Churchill gli era molto chiaro lui ha sempre detto non sono io che ho vinto la guerra i coraggiosi furono tutti gli altri furono quelli che combatterono sul serio e perché è molto semplice se i nostri politici si mostrano coraggiosi noi limitiamo e diventiamo coraggiosi e questa cosa va imparata perché se invece i nostri politici si mostrano terrorizzati impauriti spaventati dal diverso o dallo straniero noi diventiamo spaventati e razzisti quindi è il motivo per cui dobbiamo votare i migliori di noi e non i peggiori di noi è esattamente questo basta che sia ci manca molto Churchill oggi basta che siano in offerta no neanche in offerta guarda aggiungo una cosa in offerta nel senso che siano sul mercato della politica no ma in realtà parlando con Churchill a un certo punto mi immagino che sia lui a difendere l'Italia in Europa e io dico io un politico così qualunque cifra mi chiede gliela do cioè gli darei qualunque cifra e so che dico una cosa impopolare ma è un po' lo stesso meccanismo siccome devono essere i migliori di noi a fare i politici io voglio che siano molto ben pagati i politici cioè trovo una follia questa cosa di dire siccome i politici sono tutti disonesti paghiamoli poco ma come? se i politici sono bravi così rimangono disonesti esatto e per di più c'è i pirla esattamente se sono bravi devono essere molto ben pagati se sono disonesti io mica li voglio lasciare lì a 400 euro al mese li voglio a casa via da lì cioè a 400 euro al mese non voglio è proprio sbagliato come concetto senti ma parliamo invece un po' del Churchill privato diciamo intanto non sapevo una cosa ma è vero che sull'avambraccio aveva disegnato un ancora tipo braccio di ferro braccio di ferro questa mi ha colpito questa cosa guarda ti dirò di più non l'ho messa in un libro in realtà si dice che anche sua mamma ci avesse un tatuaggio che nascondeva con un grosso gioiello perché ce l'aveva qua il tatuaggio la madre e il tatuaggio ce l'aveva assolutamente ma lui di vita privata è un personaggio incredibile se vogliamo prima non so forse perché il mio primo libro che era forse in te insisterai era una lettera a mio padre mio padre mi diceva sempre questa cosa bisogna imparare a usare i tempi morti cioè nel momento che tu hai un'oretta hai due orette se nel parlare non c'hai i tempi morti sei una macchinetta chiedo scusa no 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 era un apprezzamento era un apprezzamento sempre il terrore che alla prima pausa che faccio mi manda via e allora non faccio pause tranquillo comunque lui sui tempi morti era veramente un maestro perché quando non viene più eletto dopo la seconda guerra mondiale poi in realtà farà un altro mandato nel 50 dal 50 al 53 lui dice vabbè e uno pensa aveva già 75 anni uno pensa andrà in pensione andrà a dipingere era un appassionato che dipingeva e lui invece si mette a scrivere la seconda guerra mondiale che è quella che da noi è in 12 tomi dell'Oscar Mondadori e con quella vince il premio Nobel quindi nel 1953 vince il Nobel per la letteratura peraltro che anche quello uno dice ma Churchill gliel'avranno dato boh per la pace no per la letteratura ed è molto bello leggere la sua anche perché lui ha una sua bellissima battuta lui dice io non ho paura del giudizio della storia perché intendo scriverla io quindi effettivamente lui l'ha scritta anche se in realtà c'è un sacco di libri anche su di lui e per scrivere diciamo di teatro anche su Churchill è perfetto leggersi c'è un famoso libro Churchill privato che è il libro del suo maggiordomo c'è questo librone di Lord Moran duro a morire che è il suo medico privato che è strapieno di virgolettati e anche di aneddoti stupendi non so per me c'è un aneddoto straordinario di Churchill che quando nel 40 va da Roosevelt va alla Casa Bianca perché lo deve pregare in ginocchio che ci dia una mano per la secca ci dia è sbagliato diciamo gli dia perché noi in realtà stavamo dall'altra parte in quel momento però insomma che dia una mano agli alleati e Churchill è nella sua camera da letto appena fatto il bagno quindi è completamente nudo entra a Roosevelt cosa che faceva due volte al giorno esatto con esattamente 37 gradi quando lui veniva immerso e dopo l'immersione doveva essere di 40 gradi quindi aveva lì delle persone che a quel punto gli versavano comunque è completamente nudo entra a Roosevelt che si imbarazza moltissimo e sta per uscire e invece Churchill così assolutamente biotto come l'ha fatto la mamma dice no 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 signor Presidente non si preoccupi come vede questa è la dimostrazione che io non ho niente da nascondere al mio più stretto alleato che trovo era veramente un comico era come dicevi prima avendo io scritto per Paolo Rossi Crozza insomma per molti comici c'è un pezzo dentro del libro che è una raccolta di sue battute cioè di battute di Cerci alcune le ho ritoccate e poi sostanzialmente gli ho dato facciate un paio di esempi dai quella sui socialisti è molto famosa lui fece una battuta sui socialisti dice i socialisti sono come Cristoforo Colombo quando partono non sanno dove vanno quando arrivano non sanno dove sono tutto questo con i soldi degli altri di battute proprio senti quanto pensi di assomigliare a Cerci non dal punto di vista politico dal punto di vista umano questa poliedricità ti appartiene un po' si questo molto però posso dire purtroppo troppo poco tu che cosa sei dimmi un po' che cosa sei tu io sono un attore un autore televisivo di teatro uno scrittore un drammaturgo adoro fare la radio guarda a me quotidianamente mi capita questo momento in cui di solito mi chiudono in una stanzetta e mi dicono ma tu vuoi fare l'attore o lo scrittore o lo youtuber perché ho fatto anche un video la barbellata e la nutella che è andato molto su youtube e io dico sempre ma io vorrei provare a fare tutte queste cose cioè penso che questo bisogno che abbiamo che è comprensibile perché ce l'ho anch'io ce l'abbiamo tutti di mettere un'etichetta sulle persone se lo fai così senza pausa ce la fai diciamo senti mi zittisco no 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 senti ma come fai come fai a fare una trasmissione radiofonica che parla dell'Italia che funziona tutte le mattine ti sforzi di fare l'ottimista o lo sei eh no però non tutte le mattine tutti i weekend si si tutti i sabati tutte le domeniche ma in realtà Alessio Maurizzi secondo me non è non è il fatto di fare una trasmissione su le buone notizie è il fatto di trovare delle buone pratiche anche eh in notizie terribili molte volte anche eh il Manuel è il nuotatore dopo una notizia terribile che è eh la sua paralisi a causa di un colpo di pistola però la sua energia il suo modo di reagire quella è una buona notizia quindi in realtà è ovvio che la notizia rimane terribile ma c'è un modo e penso che molto spesso sui giornali eh si si prende sempre il negativo e e faccio l'esempio sull'Europa perché poi sono gli esempi che faccio nel libro ehm quotidianamente noi vediamo le differenze no? ci ci comunicano quanto siamo diversi ecco io penso che questa cosa qui non sia tanto vera ovvero io eh ricordo l'Interrail che era questo biglietto del treno col quale si viaggiava per un mese per tutta Europa traghetti compresi e io quando l'ho fatto mi ricordo che fu stupendo proprio mi ricordo in questa piazza dove siamo arrivati l'ostello della gioventù perché si dormiva l'ostello della gioventù era tutto pieno di spagnoli sono andato ad Amsterdam sono andato ad Amsterdam ma non è ma guarda ovunque in realtà ovunque mi ricordo il nord Elzin poi dopo la Polonia perché pensavo che andava e basta vedi no però la cosa la cosa che mi sembra importante è il fatto che tutti in questa piazza dove non avevamo il letto nello stello tra polacchi norvegesi olandesi austriaci e tedeschi in realtà prendendoci in giro di quanto fossimo diversi perché è ovvio e uno c'ha la pizza e l'altro c'ha la puntualità e quell'altro ognuno c'ha la sua in realtà ci riconoscevamo tutti profondamente identici e io mi ricordo che comunque a ogni frontiera bisognava avere il passaporto c'erano i militari con il mitra in ogni paese dove arrivavi dovevi scendere la prima cosa che dovevi fare era andare a un change a cambiare i soldi ecco tutto questo non c'è più adesso ed è un valore positivo perché se si va sulle differenze ci sono sempre tra l'altro noi siamo italiani figuraci non so Pisani e Livornesi si odiano l'opera di loro ma qualcuno pensa che non siano italiani perché se si fa così si arriva a farlo sul condominio guarda che c'ho altre due domande a fare stai zitto chiedo scusa però volevo arrivare alla battuta perché se no fra un po' arriviamo veramente che hashtag prima quelli del quarto perché dopo un'assemblea di condominio ovviamente uno dice ma quelli del sesto non capiscono niente allora devono avere un'altra moneta non so dobbiamo avere dei militari sui pianerottoli tra il quarto e il quinto piano e poi dal quinto al sesto questo era senti ma fino a due anni fa a Camera Caffè eri l'autore dei testi e interpretavi il personaggio di Olmo davanti alla macchinetta del caffè a fare lo scemo diciamo molto giusto dopodiché non ti si è più visto qualcuno dice ma perché nel frattempo hai fatto outing sulla tua omosessualità e ti hanno cacciato è vero o non è vero no no io non penso che sia assolutamente la questione del coming out fai il no no fai il church che diceva le cose come si diceva no no ma perché io ho scritto ho scritto anche un lungo post sulla questione di Camera Caffè e ci tengo anche a sottolineare che non è un problema di non chiamarmi perché secondo me ognuno chiama chi vuole ma è che loro mi hanno chiamato cioè mi hanno chiamato io ho iniziato a fare le riunioni e poi non si è capito bene cosa è successo o meglio sostanzialmente c'è anche che io credo che la scrittura sia molto importante e quindi se uno ti chiede 180 episodi io ne ho scritti ne ho firmati 1500 perché in realtà c'è una squadra molto ampia se tu vuoi ridurre la squadra e in due mesi avere 180 episodi avrai degli episodi schifosi e io degli episodi schifosi non c'ho voglia di firmarli non mi metto a farlo e quindi nel momento in cui mi siedo prima di iniziare pretendo dei paletti quindi che ci siano dei tempi e che ci siano anche delle economie e non sono particolarmente economico questo lo ammetto ma quel personaggio Olmo lo butti via così o lo ricicci fuori da qualche altra parte? no no è assolutamente è di Camera Caffè quindi è giusto che sia così tra l'altro è l'unico personaggio che in realtà non c'era nella versione francese perché in realtà Camera Caffè è un format francese che abbiamo comprato senti ma di quello che farai domani dopo il libro cosa fai? dopo il libro dovrei scrivere un documentario questa è un'ipotesi e no spero di scrivere un altro libro no in realtà forse dopo il libro mi tocca sposarmi ma lo scoprirete leggendo il libro perché parlo anche di fatti miei e del mio fidanzato senti ma ma il libro può diventare anche un film oltre che uno spettacolo teatrale? penso di sì al momento ho dato i diritti a Beppe per due anni ma scaduti quelli penso di sì e tra l'altro può diventare un film perché nello spettacolo ci sono solamente Churchill e la sua infermiera verso fine carriera di Churchill invece nel film che si può fare c'è anche l'autore che lo sta scrivendo che in realtà io prendo delle decisioni grazie a quello che imparo da Churchill quindi la mia vita modifica lo spettacolo ma Churchill modifica la mia vita bene imparate un po' di Churchill anche con questo libro leggetelo grazie a Carlo Giuseppe Gabbardini di essere stato con noi un fiume in piena grazie mille diamo una mano al piede con la pubblicità state con noi per la quarta e ultima parte di Roma Incontra bentornati a Roma Incontra è professore di linguistica italiana all'Università di Siena Rezzo accademico della Crusca ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni maggior parte delle quali dedicate alla lingua italiana il suo ultimo libro è la seconda parte di un'indagine sulla nostra lingua dedicata al Rinascimento più che un libro una sorta di guida turistica per esplorare l'italiano depositato nelle opere di tre grandi protagonisti del periodo rinascimentale che sono Pietro Bembo Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli è Giuseppe Patota Buonasera 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 Allora visto che stiamo in fase di nostalgia rifacciamoci con il nostro rinascimento che bello che era l'italiano del rinascimento non era l'italiano del rinascimento però era l'italiano del 300 che gli intellettuali del rinascimento hanno fatto diventare la lingua che parliamo anche noi quanto c'è oggi quanto è cambiato diciamo tra le pochissimo poco? ma addirittura è cambiato pochissimo anche rispetto all'italiano di Dante ecco pensate soltanto pensi soltanto a questo particolare no? pensiamo al primo verso della Divina Commedia nel mezzo del cammin di nostra vita qual è l'unica differenza rispetto all'italiano di oggi? noi non diremmo nel mezzo del cammin di nostra vita ma nel mezzo del cammin della nostra vita beh insomma poca roba direi che cosa rende Dante difficile che cosa rende Dante complesso la serva oscura oggi è oscurissima quindi figuriamo però certo ma che cosa rende Dante difficile non la forma della sua lingua ma i significati i contenuti che veicola con quella lingua tant'è vero che le famose letture Dante si commenti le analisi della Divina Commedia sono cominciati poco dopo la morte di Dante il primo commentatore ufficiale di Dante è stato Boccaccio pagato da Firenze che aveva parecchio da farsi perdonare a proposito di Dante e l'italiano di Dante che come è trasmirigrato nell'italiano di Ariosto di Machiavelli dunque allora intanto la faccenda è questa intanto più che l'italiano di Dante a trasmiricare è stato l'italiano di due suoi illustri contemporanei o quasi contemporanei per l'appunto Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa perché il primo dei tre signori di cui mi occupo in questo libro vale a dire Pietro Bembo che il mio è normale che sia così è noto a noi storici della lingua ma non è noto nemmeno ecco giustamente non è molto studiato a scuola c'è altro da da studiare da presentare a scuola però qual è l'importanza di questo personaggio meno noto è stato il padre padrone della grammatica italiana potremmo dire cioè la persona che ha codificato che ha individuato nel fiorentino letterario del 300 di Petrarca e di Boccaccio era un po' schissinoso nei confronti di Dante pensi un po' diceva che diceva troppe parolacce scriveva cose un po' rozze e dicevo ha individuato questo modello ha scritto una grammatica intitolata le prose nelle quali si ragiona della volgarlingua nel primissimo nel primo quarto del 500 in cui individua nella lingua di questi due il modello di lingua da seguire siccome noi non abbiamo mai avuto per molto tempo un'unità politica la nostra storia politica è prima di tutto una storia culturale ed è prima di tutto una storia linguistica è venuta molto prima l'italiano dell'Italia e degli italiani ecco io devo dire che mi sento di abitare nella mia lingua noi tutti possiamo sentire di abitare nella nostra lingua prima ancora che nel nostro paese a me siccome mi piace la complessità dell'italiano mi piace la capacità di poter rendere la complessità raccontata parlata c'è qualche altra lingua nel mondo che sia capace di dare la complessità che dà l'italiano? sicuramente allora ci sono lingue sintatticamente meno complesse rispetto all'italiano ce ne sono altre anche di più complesse rispetto all'italiano il cinese è una lingua estremamente complessa per il niente nemmeno il poco che ne so però è significativo che lei abbia fatto questa considerazione e lei non è l'unico a farla anzi aggiungo una cosa che la fanno più gli stranieri l'hanno fatta e la fanno più gli stranieri di noi italiani ammirano e apprezzano forse mi sento straniero in patria dal settecento in poi l'italiano è considerato probabilmente la lingua più bella del mondo e anche la lingua più elegante la più complessa del mondo ora la verità è che non esistono lingue dal punto di vista tipologico non esiste una lingua più bella rispetto all'altra parliamo per esempio della quantità di vocaboli c'è qualche altra lingua che ha la stessa quantità di vocaboli ma certamente sì poi tenga conto di un'altra cosa la cosa un po' sorprendente è questa che uno studio condotto da un gruppo di lavoro guidato dal grande Tullio De Mauro ha dimostrato che per comunicare per comunicare oralmente e per iscritto attenzione e per produrre il 90 circa per cento dei nostri testi parlati e scritti noi italiani e quando dico noi italiani non faccio riferimento soltanto all'italiano medio o addirittura basso faccio riferimento anche all'italiano sociolinguisticamente elevato noi adoperiamo un gruppo molto ristretto di circa duemila parole pensate su un totale di cento centocinquantamila ecco un buon vocabolario tutte le altre le usano nei testi di legge diciamo così non si capisce beh insomma è vero allora ha detto una parte di verità nel senso che il grosso degli altri 98 mila e rotti è fatto di termini tecnici quindi ha ragione finisco di dire questa cosa dal settecento in poi in tutto il mondo l'italiano è considerato una lingua particolarmente bella ma perché perché ha veicolato bellezza e questo è il motivo per cui io ho pensato di intitolare così questo libro a proposito della bellezza dell'italiano o della grande bellezza per usare sì certo lei la associa diciamo alle grandi opere per esempio la primavera di Botticelli Raffaello cioè qual è l'nesso diciamo che lei crea tra adesso vediamo anche sì allora la cosa straordinaria della lettura che ho potuto fare perché poi per leggere queste opere la cosa migliore è scriverci un libro sopra perché uno è costretto a quel punto a studiare a leggere a cercare di capire allora per esempio il primo degli autori che vi ho nominato e di cui mi occupo Pietro Bembo ha scritto un dialogo questo dialogo si intitola Gli Asolani ed è un dialogo in cui si parla d'amore non è una grande opera dal punto di vista letterario Ariosto e Machiavelli hanno scritto ben altro bene questo dialogo di carattere neoplatonico è ambientato in un giardino questo giardino è descritto come un giardino straordinariamente ricco di un giardino straordinariamente ricco di fiori io un giuramento non ce lo posso fare però sono assolutamente convinto del fatto che Bembo che per un certo periodo seguì il padre che era un pezzo grosso della Repubblica di Venezia anche a Firenze questo quadro lo abbia visto quadro peraltro al quale sono particolarmente legato per un motivo adesso questo quadro lo possiamo ammirare agli uffizi ma prima prima questo quadro era nella Villa Medicia di Castello e adesso la Villa Medicia di Castello è la sede dell'Accademia della Crusca alla quale come lei gentilmente ha ricordato quindi io ogni volta che vado in Crusca penso a se avessimo qui questo quadro allora c'è un forte collegamento poi il Bembo che abbiamo già nominato era un grandissimo amico di Raffaello e scrisse lui l'epitaffio possiamo leggerlo se andiamo al Pantheon quindi a due passi da qui l'epitaffio questo è un altro quadro è un altro affresco perdonatemi di Raffaello della scuola di Raffaello l'incendio di Borgo dicevo ha scritto lui l'epitaffio in latino che possiamo leggere sulla tomba di Raffaello nel Pantheon che dice qui già ce lo traduco in italiano anche perché poi dovessi sbagliare un accento latino perché poi alla Crusca infatti allora dice qui giace Raffaello da lui mentre visse la natura temette di essere vinta adesso che lui è morto lei la natura teme di morire ecco a due passi da qui a due passi da qui c'è Palazzo Baldassini che è il posto dove Pietro Bembo visse per una parte consistente della sua vita lui era segretario del Papa gli scrive le lettere latine perché era un grande latinista se torniamo al Pantheon se torniamo al Pantheon e vediamo il Pantheon e guardiamo il Pantheon non possiamo fare a meno di pensare che in quel Pantheon si incarna perfettamente quel mito di Roma antica che Machiavelli fece rivivere in una grande sua opera nei discorsi sopra la prima decca di Tito Livio quindi un commento a un grande storico latino cioè uno pensa di studiare la lingua certo che studia la lingua pensa di analizzare la letteratura certo che analizza la letteratura e contemporaneamente ogni parola ogni verso che legge incrocia artisti pittori scultori architetti è per questo che lei nel libro li ha collocati come se fossero in un museo diciamo ma sì ma non è stata una mia trovata non è stata una mia invenzione sono stato costretto vi faccio un altro esempio Machiavelli no? Machiavelli scrive quest'opera il Principe e la deve anche giustificare perché la dedica addirittura a un Medici allora nel nel premio nella presentazione di questo libricino che ha rivoluzionato la storia della cultura del mondo lui cerca di dire di giustificarsi dice come mai io persona di bassa condizione mi metto a parlare di principi quindi di capi di stato ecco assumono un atteggiamento non diverso di quello che assumono coloro che disegnano i paesi adesso vi spiego che cosa vuol dire questo coloro che disegnano i paesi i quali possono guardare un luogo alto guardandolo dal basso verso l'alto ma possono anche guardare un luogo basso guardando dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto ora la cosa abbastanza interessante è questa quando parla di coloro che disegnano i paesi Machiavelli fa riferimento sicuramente a Leonardo Leonardo che Machiavelli probabilmente conobbe oltre che grande pittore e tutto il resto fu anche un disegnatore di paesi lui fece delle topografie delle mappe che dovevano anche servire per urbanistico ma anche per ragioni di ordine bellico se noi vediamo le rappresentazioni di Leonardo certi disegni di Leonardo sono dal basso a una prospettiva dal basso verso l'alto è la stessa prospettiva che Machiavelli dice di assumere quando pensa al principe lui basso guarda il principe in alto anche qui l'associazione fra Leonardo e Machiavelli mi è venuta in automatico ci sono luoghi in cui mi sento di poter avvicinare Leonardo ad Ariosto quando Ariosto racconta le battaglie e gli scontri li racconta in simultanea ecco la cosa che colpisce è questa lui descrive in contemporanea diversi scontri diversi combattimenti è esattamente quello che fa Leonardo e che racconta di fare Leonardo quando fa gli affreschi i disegni i progetti per la rappresentazione di grandi battaglie mi tira fuori di Ariosto e di Machiavelli una frase ciascuno che lei ritiene sia la più significativa la più quella che contiene più interessante allora dunque la frase più significativa di Machiavelli dice che era italiano non è un caso dice gli uomini sdimenticano cioè dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio che secondo me tutto sommato già allora dice secondo me funziona beh sarò anche banale però non posso pensando a Ariosto non posso fare a meno di sognare ogni volta che sento quel le donne i cavalieri l'arme gli amori le cortesie l'audaci impresi o canto che sembra una cosa detta così in realtà dietro questi e dietro i versi che seguono ci sono tanti piccoli segreti per esempio è un verso che conosciamo tutti quanti questo il verso con cui inizia l'Orlando Furioso le donne i cavalieri l'arme gli amori allora l'Orlando Furioso è un tentativo di sintetizzare sia la materia d'armi sia la materia d'amore sostanzialmente sia Orlando sia l'Ancillotto e Ginevra per intenderci allora pensate a questo primo verso le donne i cavalieri l'arme gli amori vedete che da una parte agli estremi di questo verso abbiamo le donne e gli amori al centro abbiamo i cavalieri e le armi è una figura retorica molto nota che si chiama chiasmo in cui degli oggetti degli elementi delle persone vengono rappresentate come se fossero in uno specchio e uno dice ma le sorprese finiscono qui neanche per sogno perché in questo le donne i cavalieri per l'arme e gli amori con tutta probabilità anzi con certezza Ariosto ha ripreso si è rifatto un verso della Divina Commedia di Dante in cui si parla di donne e di cortesie e tutto sommato rinvia anche all'inizio delle neide arma virunque canò canto le armi e l'eroe tutto sommato ecco se uno legge Ariosto perché nessuno inventa niente dal niente questa è la verità tutti riscrivono ma è il segreto della letteratura questo non c'è niente di copiato in questo per intenderci la cosa interessante è provare a scoprire questi richiami interni è come se non so l'impressione che ho quando leggo l'Orlando Furioso è questa immagino di calare vedo un oceano vedo un mare che può essere ora calmo e ora molto agitato come quando racconta le battaglie o quando racconta la pazzia di Orlando è quello che fa era curioso era furioso per l'appunto e allora che cosa succede però se in questo mare uno prova a calare una rete e poi tira su questa rete emergono vengono a galla centinaia di libri sono tutte le letture pregresse di Ariosto che era un lettore estremamente vorace che rivengono fuori e uno trova delle cose incredibili trova tutta quanta la saga di Re Artuto tutta quanta la saga di Orlando ma trova i grandi poemi epici della letteratura latina trova Dante trova Petrarca quando lui deve descrivere e poi mi fermo perché se no faccio anch'io ecco abbiamo un minuto e le devo fare una domanda allora me la faccia è una domanda diciamo che capisco che sia un po' blasfema ma insomma abbiamo parlato di questi grandi dobbiamo parlare dell'italiano di oggi io ho un'ansia sul congiuntivo sì allora no guardi io fermo le persone che passano per strada quando sento che sbagliano congiuntivo sfonda una porta aperta perché fra i libri lei la ringrazio ha citato i libri che ho scritto prima ce n'è uno che ho scritto con la mia collega Valeria della Valle che si chiama si intitola viva il congiuntivo quindi più di così però le dico subito allora lei mi domanda come sta l'italiano io le rispondo l'italiano sta benissimo faccia il medico e dica che è stato di salute no allora l'italiano sta benissimo stanno molto meno bene gli italiani che lo usano questo è il problema ecco l'italiano peccato che come dire vive nella bocca di quelli che lo parlano insomma congiuntivo che lasciamo perdere passato remoto ormai si usa solo in Sicilia no però posso dirle la punteggiatura vabbè il punte virgola è un panda l'incidentale tra due tratti lo uso solo io eh turpi l'occhio poi è stato ecco questo è l'aspetto più grave però le posso dire allora intanto io vorrei rincuorarla sul passato remoto è esattamente così il passato remoto ha perduto è remoto ha perduto insomma lo spazio del passato remoto è stato ormai occupato lo diamo per morto dal passato prossimo no però insomma non sta benissimo non si sente molto bene però invece sul congiuntivo io vorrei tranquillizzarla perché studi e numeri e statistiche alla mano le posso dire che il congiuntivo non è affatto morto il Parlamento sicuramente è morto però sa perché vabbè vabbè lei adesso vuole farmi sparare sulla croce rossa e non lo farò però dobbiamo chiederci ma perché tutti quanti noi però siamo portati a pensare o a dire il congiuntivo è morto perché perché alle orecchie delle persone linguisticamente sensibili linguisticamente educate un congiuntivo sbagliato un congiuntivo mancato fa lo stesso effetto del gesso che scricchiola sulla lavagna cioè fa venire allora noi facciamo caso al congiuntivo sbagliato ma non facciamo affatto caso ai tanti congiuntivi corretti che per fortuna si continuano ad operare ecco dopodiché guardi io le posso dire questo ecco naturalmente non ho non commento sui congiuntivi del sbagliati del dell'attuale vicepresidente di uno dei due vicepresidenti del consiglio neppure di un congiuntivo sbagliato del presidente del consiglio perché ne ha proprio sparato uno tremendo però visto che si parlava prima di chi ha votato che cosa io mi sono rallegrato per il fatto che Zingaretti appena diventato segretario del PD ha sbagliato il congiuntivo e allora io ho pensato forse diventerà presidente del consiglio c'è una possibilità infatti sono stato io ho votato per lui quindi ma siamo fuori ma esiste un italiano populista diciamo certo certo che esiste sì insomma gli si può dare un nome e un cognome l'italiano populista oggi è l'italiano di Grillo e di Salvini è un italiano fortemente violento è inutile che questo è l'aspetto più preoccupante dal mio punto di vista non un congiuntivo o due congiuntivi in meno l'italiano sta benissimo da questo punto di vista l'italiano violento è un italiano pericoloso allora senta facciamo così visto che dobbiamo chiudere qual è il modo più elegante per salutarsi dopo un colloquio come questo che non sia ciao quelle cose qual è il modo più elegante che mi ha fatto molto piacere essere qui e quindi ringrazio lei e ringrazio il pubblico grazie professor Patota un momento di italiano vero grazie ci vediamo lunedì prossimo grazie che state con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti